Ciao a tutti, sono Cristian Broggi, presidente dello SciClub Gray da Campoblenio. Perché un crowdfunding per l'acquisto di un nuovo furgone? Scopriamolo insieme! Intanto vi ringrazio per il vostro sostegno. Ciao ciao! Urlo! Vai! Grazie a tutti! Vai! 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 Urlo! Uhhh! Vai! Bravo! Martino! Martino! Vanda de Martino! Vanda! Dai record, record, record Dai record, 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 record Dai record, 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 record Bravo Leo, vai Adam